Catturato oggi a Catanzaro dagli uomini della squadra mobile, il super latitante vibonete Agostino Papaianni. L'uomo si nascondeva in un appartamento della periferia e ora si indaga su possibili fiancheggiatori. Il servizio di Lorenzo Gottardo. Il settantenne Agostino Papaianni, latitante e uomo di punta del clan Mancuso di Limbadi, per il quale gestiva gli affari sulla costa tirrenica, si nascondeva tra le case della periferia di Catanzaro. Nel quartiere Iannò, definito dagli inquirenti come un territorio che spesso ha fornito supporto e protezione agli esponenti dei clan. L'operazione è stata dal punto di vista operativo abbastanza complessa, perché l'appartamento nel quale è stato catturato il latitante si trovava all'interno di un reticolo di vie pedonali e soprattutto alle spalle dell'abitazione c'era un'aria greste, un dirubo, dal quale ci si poteva facilmente allontanare. Si trovava in un appartamento con tutti i comfort, all'interno dell'appartamento aveva attrezzato anche una piccola palestra domestica. Papaianni, latitante fin dal dicembre del 2019, quando sfuggì all'arresto nel corso dell'operazione rinascita Scott, è considerato tra i fedelissimi del boss Luigi Mancuso, che avrebbe spesso affiancato durante le cerimonie di affiliazione dei nuovi appartenenti al clan.